I tre punti principali del mio programma sono soprattutto focalizzati su i giovani a Cossato, il territorio e la cultura. I giovani in questi dieci anni di governo di centrodestra sono stati dei pauperati di quelle poche strutture che avevano a disposizione per quanto riguarda l'aggregazione. Noi abbiamo svolto una campagna in questi mesi di ascolto, soprattutto rivolto alle generazioni più giovani, rivolto a tutti gli strati sociali della nostra cittadina, però soprattutto per i giovani. Abbiamo avuto tante proposte, questo mi dà orgoglio perché siamo riusciti un po' a scardinare quel luogo comune in cui i giovani sono interessati al loro territorio, alla politica, invece vedo che c'è molta partecipazione. Lo testimonia anche la presenza di parecchi giovani nella mia lista. C'è una ragazza che ha 20 anni, quindi testimonia proprio questo fatto. Poi per quanto riguarda il territorio, lo riferisco sempre anche ai giovani, anche questo, il nostro territorio necessita di una nuova progettazione. Quindi io punto molto sulla realizzazione di un nuovo piano territoriale, un nuovo piano regolatore che si adegui alle normative di genti che sono cambiate in questi anni. Il nostro piano risale al 2006, quindi necessita di una rivisitazione, di una ristrutturazione. Però io punto molto sulla partecipazione. Deve essere una progettazione partecipata e quindi deve essere estesa soprattutto alle generazioni che vedranno la città futura, quindi ai giovani. I giovani devono partecipare per la progettazione della loro città. Poi il discorso della cultura. Abbiamo delle eccellenze a Cossato per quanto riguarda la cultura. Abbiamo una scuola che diffonde la lingua dei segni. Non so se potete sentire parlare la lisa a Cossato, quindi è un'eccellenza a livello internazionale. Addirittura sono venuti dal Giappone a vedere il metodo che viene proposto a Cossato. Noi dobbiamo potenziare questa eccellenza, renderla diffusa non solo ai ragazzi che non sono normodotati, ma anche a tutti quanti, in modo da creare, da incentivare una situazione di maggiore inclusione. Quindi noi abbiamo visto anche in questi anni, parlando proprio con il personale che si adopera anche alla diffusione di questa lingua, che la lingua dei segni consente anche un maggiore affiatamento tra i ragazzi. Si creano delle situazioni in cui magari i ragazzi che provengono da altri paesi vengono inclusi nell'ambito scolastico con maggior facilità. Quindi questo secondo me è un vantaggio che potrebbe essere veramente, anzi, deve essere potenziale. Allora, Cossato, io rimando sempre agli epoche passate, ha vissuto una storia di centralità, soprattutto nell'ambito del bilancio orientale. Quindi è stato un po' il fulcro, il centro propulsivo per quanto riguarda le innovazioni, anche i servizi, soprattutto i servizi. In questi ultimi anni purtroppo si è isolata dal mondo, dico dal mondo perché ha perso molti servizi. Quindi io vorrei riportare la città di Cossato in una condizione in cui possa condividere il servizio. Allora, a Cossato abbiamo un liceo, abbiamo l'unica scuola superiore che è nel territorio di Cossato, del liceo, il liceo scientifico. Ha delle problematiche evidenti. C'è uno stato di grado della struttura delle aule, della scuola stessa. Ed è una scuola abbastanza recente. Quindi io dico, anche se non è di competenza dell'amministrazione comunale una scuola superiore, però bisogna sforzarci per mantenerla di qualità. Quindi per avere una qualità indiscussa che attiri anche i ragazzi verso questa scuola. Il liceo di Cossato qualitativamente risponde a delle caratteristiche molto alte. Nello stesso tempo però necessita di aule, lo sappiamo tutti, è uscito sui giornali anche. Quindi il comune, secondo me, parlo proprio in termini banali quasi, dovrebbe interessarsi anche a questi argomenti. e imbattere magari i pugni sul tavolo per avere una riqualifica di questa scuola e gli spazi necessari anche per il proseguo della vita scolastica. Allora, qui è fondamentale parlare di lavoro, perché è logico che i giovani che stanno nel loro paese hanno qualcosa da fare. Quindi, oltre a studiare e tutto il resto, devono anche avere un lavoro. Allora, noi ci battiamo soprattutto per avere delle qualità nel territorio che consentono anche a qualcuno di venire investire nel nostro territorio. Quindi è fondamentale, secondo me, avere delle vie di comunicazione adeguate ai nostri tempi. Siamo in ritardo su questo, quindi proprio concretamente puntiamo sullo sviluppo della pedemontana, arrivare fino a meno al casello di Ghemme, quindi realizzare il proseguo della superstrada esistente, in poche parole, e il potenziamento anche delle ferrovie. Questo potrebbe dare un po' di ossigeno al nostro territorio, e quindi magari consentire anche a qualcuno di avere quelle esternalità positive per poter spendere dei soldi e costruire delle attività all'interno del nostro territorio. Poi, un'apertura verso attività anche nuove, che magari si distacchino un po' dalla tradizione nostra del tessile. Sono discorsi che sono già stati fatti da tempo, quindi noi puntiamo un po' su una nuova pianificazione del territorio che consente a garantire anche delle possibilità in più. Questo è importante, secondo me. La gestione del territorio, la programmazione, la progettualità, si innesta anche in questo discorso. Poi, che i giovani vadano a fare un'esperienza, siano favoriti anche a fare delle esperienze al di fuori del proprio ambito, quindi vadano a studiare anche all'estero, l'importante è che ritornino e che portino la propria esperienza da noi. Perché questa è una cosa importantissima. Sì, è una situazione che ormai è agli occhi di tutti, che Cossalto ha perso le sue connotazioni di attirare gente, e in pratica soprattutto per il lavoro. Adesso la crisi che abbiamo vissuto in questi anni non la demandano, non faccio riferimento all'amministrazione attuale. Non è solo colpa loro. Tante colpe le hanno anche loro, però. Quello che dovrebbe dare una svolta è proprio quello che ho detto prima, rendere la nostra città appetibile a qualcuno che vuole realizzare qualcosa dal punto di vista lavorativo, quindi creare un nuovo lavoro. Qui bisogna mettersi attorno a un tavolo tutti quanti e trovare delle soluzioni. Sono scelte anche abbastanza complicate, quindi dobbiamo condividere un po' le nostre proposte e soprattutto accogliere le proposte anche degli altri. Quindi puntare molto sulla cultura, sui giovani, sul territorio. Un territorio che possa essere anche vivibile, quindi dal punto di vista ecologico di qualità. Nel nostro programma abbiamo parlato molto di aree verdi, aree verdi che possono essere collegate tra loro, non spezzettate. Quindi creare dei percorsi anche all'interno del paese che magari invoglino la gente a spostarsi a piedi o in bicicletta anziché con i mezzi pub, con i mezzi privati, mezzi a motore. Quindi creare anche le condizioni per rendere la nostra città sicuramente più vivibile. Sì, ho già risposto in parte nelle domande precedenti, però è fondamentale, i collegamenti sono fondamentali. Il biellese, sappiamo tutti, è isolato. Allora, oltre a un discorso strutturale, strategico, quindi vediamo, come ho detto prima, il proseguo della superstrada, e il potenziamento delle ferrovie, l'elettrificazione delle ferrovie non solo tra Biella e Satiana, ma anche per tutta la linea fino a Novara, che quindi coinvolge anche Cossato, in modo da consentire a tutti di prendere un treno e arrivare poi nel centro della grande città. Un treno a Cossato o a Biella e arrivare al centro di Torino o al centro di Milano. E questa è la nostra proposta, la nostra volontà. a battere i pugni, poi, è logico, nelle sede, io dico battere i pugni, andare a contrattare, andare a spingere delle scelte in pratica negli ambiti preposti, proprio per garantire poi queste scelte strategiche. Nonostante questo, dobbiamo anche pensare che il nostro paese, il nostro territorio, io non parlo solo di Cossato, parlo di un ambito molto più ampio, ha anche delle potenzialità che sono soprattutto di tipo naturalistico. Abbiamo molto verde intorno a noi che potrebbe essere sfruttato anche in maniera consona della sede, potrebbe dare anche uno sviluppo, un indotto, soprattutto a un turismo particolare. Non so, adesso la butto lì proprio come esempio. Le passeggiate in mezzo a un parco, a un bosco, possono attirare qualcuno a venire da noi. Il discorso della comunicazione, quindi non è solo della comunicazione, il discorso strategico dei collegamenti non è solo orientato verso le grandi vie di comunicazione, ma anche ai percorsi all'interno del territorio. quindi garantire quel minimo di percorsi che possono far raggiungere magari i punti strategici per potenziare il turismo, l'attività ludica.